ciao a tutti oggi voglio creare un momento magico e di condivisione cantando con voi la colonna sonora del mio film disney preferito ma prima voglio ringraziare chi in questo momento sta facendo davvero tanto in prima linea come la croce rossa italiana che sta trasformando questo momento difficile in un momento migliore nel tempo della gentilezza tutti possiamo fare la nostra parte scoprite come andando sul sito di croce rossa italiana che è www.cri.it e ora signore e signori la sirenetta guardate un po quello che ho è una raccolta preziosa lo so vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai che tesori che ricchezze chi mai al mondo ne ha quanto me se guardi intorno dirai oh che meraviglie ho le cose più strane e curiose non ho nulla da desiderare vuoi un come si chiama io ne ho 20 ma lassù cosa mai ci sarà imparerei tutto già lo so vorrei provare anche a ballare e camminare su quei come si chiamano a piedi con le mie pinne non si può far vorrei le gambe per saltare da andare a spasso per la come si dice strada vedrei vedrei anche io la gente che al sole sempre sta come vorrei essere lì senza un perché in libertà come vorrei poter uscire fuori dall'acqua che pagherei per stare un po' sdraiata al sole scommetto che sulla terra le figlie non le sgridano mai nella vita fanno in fretta ad impararti sanno incantare sanno incantare e conoscono ogni risposta a ciò che chiedi cos'è un fuoco e sai perché come si dice brucia ma un giorno anch'io semmai potrò esplorerò la riva lassù fuori dal mare fuori dal mare come vorrei vivere là fuori dal mare fuori dal mare fuori dal mare